Nella puntata di ieri sera di fatti e dintorni è intervenuto il capogruppo di Speranza per Battipaglia, nonché il leader dell'opposizione Gerardo Motta. All'interno della puntata, Motta, come di consueto, ha lanciato stoccate all'amministrazione guidata dalla sindaca Cecilia Francese. Io non ricordo che neanche la dottoressa francese, quando si è insediata, ha letto un proclama, perché di questo si trattava, delle cose che avrebbe voluto fare e avrebbe dovuto fare. Io sull'assessore Bruno ho detto una minima parte di quello che pensavo, perché poi alla fine passare sempre per quello che fa le polemiche, che fa gli attacchi, quando poi in più circostanze sono quello che ha pagato più di tutti. Quindi voglio dire, per quello che mi riguarda l'assessore Bruno, io li ho definiti i sette dell'Avemaria, perché sono sette gli assessori che salvando la faccia di qualcuno, poi per il resto è poca roba. Ma lo dimostra quello che stanno producendo sul territorio in due anni e mezzo. Anche perché, come sempre accade, quando si accusa gli altri di determinate cose, ecco, si guarda la pagliuzza negli occhi degli altri, non si vedono le travi nei propri occhi. Quindi accusavano le precedenti amministrazioni di essere degli stipendifici, ma mi pare che questa amministrazione sta facendo, come uno schema oramai ben consolidato, esattamente le stesse cose. Ma la cosa grave è che non c'è alcun miglioramento in quelli che sono gli atti amministrativi, gli atti, diciamo, le delibere da parte di Consiglio di Giunta, che dovrebbero migliorare le condizioni del nostro territorio e della nostra città. Beh, però Davide Bruno è comunque, diciamo, l'infa nuova, insomma, è comunque, presenta molto entusiasmo, ed era comunque vicino anche alle idee politiche che sostenevano anche la sua lista, no? Ma su questo ci andrei piano, no? Allora, voglio dire, Davide Bruno era il segretario del PD di Battipaglia, e il PD di Battipaglia è votato per intero la dottoressa Francese, quindi vicino proprio alle mie idee, non ho capito? Ha lasciato libero il ballottaggio? Ma vabbè, lasciare libero significa non prendersi e assumersi la responsabilità, però forse alla fine sono convinto che doveva andare così ed è giusto che sia andato così, perché poi, come vedete, alla fine basta far passare un po', trascorrere un po' di tempo, il tempo è galantume, le risposte alle domande dei tanti perché ci si poneva di passare arrivano prima o poi per tutto. Quindi voglio dire, assolutamente vicino a me no, c'è stata gente di sinistra che mi ha votato, c'è stata gente di destra che ha votato la francese. Il problema oggi è capire questa amministrazione che, in modo molto indirlo, da destra a sinistra, da sopra a sotto, qual è la posizione reale che ha politica e quale linea segue. Perciò noi non riusciamo a raggiungere mai nessun risultato, perché noi votiamo a destra quando ci fa comodo, poi ci spostiamo a sinistra quando ci fa comodo.